Addio Rick, mi dispiace che partiate così presto Sì, anche a me, ma non abbiamo scelta Ehi tu, cowboy, dove pensi di andare così di fretta? Ma che stai facendo? Perderemo l'aereo, devi essere al distretto domattina No, non devo Sì, invece, ricordi, non hai più giorni di ferie In realtà, ora ce l'ho Come regalo di matrimonio, Esposito e Ryan hanno fatto in modo di passarmi due giorni a testa delle loro ferie Sul serio? Sì, quindi abbiamo quattro giorni per fare qualsiasi cosa vogliamo E vuoi restare qui? Certo che voglio restare, dopotutto è la nostra luna di miele Aspetta, ci andremo comunque sull'isola esotica, vero? Assolutamente sì Ok